Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Cominciamo con la conferenza stampa, come sempre Torino Film Festival, 39esima edizione, questo è il primo giorno di conferenze stampa. Arriviamo al primo appuntamento italiano, io sono molto contento di questa conferenza stampa che fa riferimento ovviamente a Bangla, alla serie. Abbiamo con noi al tavolo Fahim Bujan e Emanuele Scaringi che sono i registi della serie, con loro ovviamente Carlotta Antonelli. Grazie ragazzi, c'è una delegazione anche ovviamente Domenico Brocacci per Fandango, la sceneggiatrice Vanessa Picciarelli, Leonardo Ferrara e Francesco Nardella per quanto riguarda la presenza di Rai Fiction. Vedo che ovviamente la conferenza è molto numerosa per cui cominciamo subito. Lo dico per chi ci segue da Zoom in questo momento, io arrivo con una voce esterna quasi divina, non mi vedete, fortunatamente inquadrato, però porterò ovviamente anche grazie a Caterina Taricano che è qua con noi in sala, le domande che ci arrivano non solo da quelli presenti in sala ma chi ci segue da casa su Zoom. Come sapete ovviamente Bangla, scritto diretto e interpretato nel 2019 da Fahim Bujan insieme a Carlotta Antonelli, ha vinto il Davide Donatello come miglior regista esordiente, il film è stato premiato con il Globo d'Oro come miglior opera prima e con il naso d'argento per la miglior commedia del 2019. È stato un caso diciamo cinematografico che ha segnato profondamente il 2019, la produzione italiana e che adesso arriva diciamo con un passo ulteriore, arriva in televisione e quindi si trasforma in una serie televisiva. Io la prima domanda che vorrei fare, visto che abbiamo la fortuna di avere due sceneggiatori e la, chiedo scusa, due registi e la protagonista, Bangla è un film che rappresenta la capacità, perfettamente rappresenta la capacità del cinema italiano di trasformarsi e la sua diciamo anche fluidità. Si passa con, diciamo grazie al lavoro fatto in sceneggiatura e in regia con una certa facilità dal grande al piccolo schermo. Io vorrei chiedere, cominciamo dai due registi, com'è avvenuto questo passaggio, se è stato un passaggio per loro come dire naturale, che tipo di difficoltà hanno incontrato in questo lavoro? Buonasera a tutti. Allora, l'idea della serie in verità nasce già prima dal nostro primo incontro con la Fandango. Io sono andato insieme a Vanessa Picciarelli, che al tempo era la mia docente, perché Emanuele Scheringe ha visto un servizio che realizzai per Nemo, un escluso, che era un programma che andava in onda su Rai 2, in cui ho trattato la tematica dell'amore ai tempi delle seconde generazioni. E la proposta di Emanuele era quella all'inizio di realizzare una serie. Poi successivamente Laura Paolucci ci ha proposto di realizzare all'inizio un piccolo film e quindi questo è stato il processo che poi ha portato alla realizzazione della serie insieme a Ray Fiction. Questo è stato l'iter. Perfetto. Emanuele, tu vuoi aggiungere qualcosa? Perfetto, ok. A questo punto io ve lo dico, ovviamente se ci sono domande dalla sala voi alzate la mano e nel frattempo poi Caterina mi porta nel caso le domande che arrivano da casa. Passerei invece a Carlotta, che è protagonista sia del film che della serie. Anche per te fondamentalmente la stessa domanda. Il tuo personaggio peraltro è diventato anche in quel caso iconico, cioè la ragazza di Roma Nord e diciamo tutto quello che si porta presso la provenienza geografica di Roma Nord è diventato veramente iconico. E il passaggio anche per te dal film alla serie come è avvenuto? Allora intanto buongiorno a tutti. Sì, il mio personaggio insomma nel film svolgeva il ruolo della donna all'interno di questa storia dove c'è questo rapporto d'amore tra i due. Chiaramente nella serie è stato più dilatato quindi il confronto con la donna diciamo da parte di Faim è stato un po' più approfondito. Quindi viene anche raccontato in qualche modo in un modo un po' più dettagliato questo rapporto che spesso è difficile da parte sua ma anche da parte del mio personaggio perché è chiaramente un rapporto abbastanza conflittuale diciamo con se stessi per ognuno dei due. Quindi sicuramente nella serie viene raccontato molto di più perché nel film era chiaramente un lavoro diverso però è anche molto divertente vedere come poi si confrontano su tutte le scene che sono state aggiunte nella serie che nel film chiaramente non era possibile aggiungere. Questo in qualche modo rende la serie sicuramente ancora più interessante da vedere. Chi ha visto il film e a chi è piaciuto molto il film sicuramente nella serie ritroverà ancora più elementi per apprezzarla. Certo allora diciamo che il passaggio da grande schermo a piccolo schermo che peraltro insomma è anche una definizione piuttosto fastidiosa nel senso che si presuppone come dire anche un passaggio qualitativo mentre ovviamente Bangla la serie porta diciamo secondo me a livello ancora più alto quello che poi era già espresso nel film. Però è vero che quello che diceva Carlotta c'è il fatto che abbiamo più tempo per capire tutti i processi che avvengono nel film Bangla. Io chiedo a Emanuele visto che prima ha parlato Fahim e che si aggiunge in regia per Bangla serie appunto la facilità forse di lavoro a questo punto forse c'è un po' più facilità per riuscire a dire tutto quello che si voleva dire non c'è più quella compressione che c'è invece in un film di 90 minuti 120 minuti quella che è la durata classica mentre qua c'è un po' più di tempo un po' più di respiro per riuscire a portare tutti i propri contenuti. Nella serie ti permette di allargare sia sui personaggi che sull'ambiente il quartiere. Nella serie si ha l'opportunità di allargare sui personaggi di andare più in profondità e di raccontare meglio la città il quartiere e la durata è quasi tre volte quella del film Bangla durava ottantina di minuti e nella serie siamo quasi sui sono otto puntate da 30 minuti per cui la città diventa un vero e proprio personaggio e più che così anticipo la domanda che stanno facendo sul dialetto più che Roma Nord e Roma Est sia il film che che la serie trattano le seconde generazioni con il rapporto con gli italiani di prima generazione e poi in questo caso ambientata a Roma e parlano romano però è uguale in qualsiasi città d'Italia e del mondo. Ecco giustamente quello che dice Emanuele sulla parlata di Bangla sulla parlata di Bangla film e la serie non so se avete tipo i social network in questi giorni avete capito che seguendo anche Zero Calcare sembra quasi essere un tema c'è qualcuno di che non riesce a capire la parlata romana che invece è particolarmente identificativa soprattutto rispetto a quello che diceva Emanuele sulle seconde prime generazioni quello che stupisce di Bangla è come sia un prodotto che evidentemente ha a che fare con le seconde generazioni ma che riesce contemporaneamente essere profondamente italiano quindi è legato diciamo a determinati stilemi propri della commedia italiana però con un occhio nuovo con un occhio diciamo che riesce a rinnovare quindi per quello dicevo inizialmente che voi siete riusciti a inserirvi in un filone consolidato come quello del genere italiano ma allargarne in qualche parte gli orizzonti è una domanda ma è contemporaneamente un complimento che faccio a tutti e tre in qualche modo voi avete rappresentato l'inizio di una svolta nel genere italiano quindi in parte questo è un po' il futuro è quello che ci aspettiamo possa succedere contemporaneamente sempre al cinema italiano quindi nuove voci che che arrivino a portare qualcosa di nuovo di contenuti nei nei film secondo voi dal vostro punto di vista magari facciamo un giro di tavolo qual è l'elemento più nuovo che è Bangla portato nel cinema italiano e se poi voi vi sentite inseriti all'interno del cinema italiano sicuramente i più punti di vista da parte di un ragazzo di seconda generazione che può approfondire sia la cultura d'origine quindi quella della famiglia migrante che magari culturalmente è completamente diversa rispetto a quella italiana no la difficoltà anche di integrarsi perché comunque se hai dei valori completamente diversi è difficile cioè io parlo anche a livello personale i miei genitori cioè tuttora fanno fatica cioè non hanno mai avuto come dire l'idea di approcciarsi a una comunità italiana cioè si sono fatti più forza attraverso la comunità del Bangladesh invece noi diciamo che andando a scuola e parlando appunto stando insieme ai professori agli amici e quant'altro abbiamo ci siamo integrati di più sicuramente questo porta cioè come dire cioè noi siamo il ponte che può legare le due culture questo sicuramente mi sento di dire allora sicuramente anche il discorso appunto sulla religione poi fai mi ha detto praticamente quasi tutto però è bello anche vedere l'unione di questi due mondi che si incontrano quindi poi questo ti porta anche a pensare che che non c'è diciamo che è bello vedere come invece che avere la paura diciamo del diverso della cultura della religione e sia invece bello vedere come si possono mescolare benissimo tutti gli elementi insieme e infatti diciamo è molto divertente sia il film che la serie il tema come lo tratta però secondo me è anche è anche è anche molto sensibile se uno poi va a vedere bene nel nel profondo questo questo discorso qui perché riguarda tante persone che sicuramente magari hanno queste situazioni nella realtà che hanno molta difficoltà anche a stare insieme e che oppure riguarda anche quelle persone che hanno paura del diverso che quindi poi ci sono tutti questi discorsi che portano anche a dei conflitti tra gli esseri umani invece secondo me in questa serie anche come nel film è bello proprio l'energia che esce da questo incontro non sono sicuro di riuscire in modo migliore come l'ha detto così volevo ringraziare a parte scherzi con vanessa in scrittura cioè è come abbiamo preso un po riferimento anche quello che dicevi prima sulla commedia italiana e in qualche modo come allora si parlava di emigranti dal sud con banglesi è cercato soprattutto di parlare di di nuovi italiani e è importante per il discorso su sulla multiculturali multiculturalità sull'essere cittadini del mondo in un paese come il nostro che è fermo e vecchio stiamo riscontendo ancora degli ussoli è come se le persone che vivono sono molto più veloci delle leggi che cercano continuamente io sono particolarmente contento di dividere con faim la serie che secondo me si si spinge sempre più e si cerca un racconto che ancora poco visto purtroppo almeno qui da noi certo giustamente catrina taricano che è la mia spalla in questo momento raccoglie le domande che ci arrivano da casa per ora non ne abbiamo però ne volevo fare io una ricollegandomi al passaggio tra serie scusatemi tra film e serie ci sono nello specifico delle storie dei personaggi a cui avevate pensato per il film che ovviamente per motivi di tempo avete dovuto lasciare fuori e invece siete riusciti a infilare dentro invece questo nuovo lavoro non li abbiamo allargati c'erano in piccolo abbiamo dato più spazio il personaggio di rifatto al personaggio di papà del papà di faim che è diventato più drammatico c'è una chiave molto più seria anche per quello che riguarda l'ambito lavorativo che è un altro dei temi che vengono poco trattati di solito si si è cercato di andare un po più in profondità anche con un tono sempre all'interno della commedia con delle note un po più drammati rispetto al film contato come funziona ramadan abbiamo preso proprio come time lock il racconto di un momento specifico della religione islamica perfetto allora io continuerei con le domande chiaramente chi è presente in sala ecco c'è una domanda prego buongiorno Stefani Ulivi Corriere della Sera io voglio fare una domanda ai due registi l'impressione è che rispetto al film ci sia meno il legame in particolare con Torpigna che era proprio il filo conduttore del racconto del film qui mi sembra che c'è l'ambizione anche di allargare i confini non solo a Roma ma insomma farne veramente una cosa più generale e comprensibile a tutti e a proposito dei personaggi volevo se questo era vero era solo una mia impressione e seconda domanda il personaggio della cugina che mi sembra molto interessante perché è un racconto al femminile all'interno della comunità che mi sembra una delle cose almeno nelle due puntate che abbiamo visto la cosa più nuova e anche più probabilmente anche fuori era di nuovi ulteriori sviluppi grazie sì nel senso l'idea era comunque di mantenere Torpignattara però appunto di approfondire di più i personaggi e le tematiche all'interno della serie quindi raccontare come vive una famiglia del Bangladesh piuttosto che la famiglia italiana quindi in questo senso appunto l'idea di raccontare un personaggio femminile ci aiutava appunto ad approfondire perché noi nel film abbiamo visto solo il punto di vista maschile invece è molto importante per me era abbastanza delicato raccontare la parte femminile quindi necessariamente però era giusto raccontarla quindi abbiamo cercato di raccontare sia le problematiche dal punto di vista maschile che femminile quindi ovviamente diciamo che magari all'inizio si può notare che ci possono essere più restrizioni però magari nella serie poi giudicatelo voi in verità siamo molto più simili quanto si possa pensare quindi è stato questo l'approccio che abbiamo avuto sulla serie era meno, magari sì, meno torpignattare però più dare il focus sui personaggi e sulle storie Grazie Torniamo ancora a parlare della serie nel senso io prima dicevo che Bangla il film e quindi anche la serie è esattora novità novità anche il fatto che in Italia si cominci a creare delle serie televisive che provengono dai film pratica ovviamente consolidata alt'oceano questo grazie ovviamente anche all'interessamento di Fandango e Rai Fiction io farei una domanda a tutti e tre ancora magari un giro di tavolo visto che siamo tutti appassionati e ormai come dire un percorso molto lungo di serie televisive su questo passaggio cioè quali sono i vostri punti di riferimento invece per quanto riguarda il racconto seriale quali serie televisive vi affascinano di più e se qualcosa magari è finito dentro anche alla lavorazione di Bangla se c'è qualche riferimento di serie televisive che volete citare e che comunque rispetto a quello che facciamo nel senso che solitamente le serie televisive italiane che arrivano poi oltre all'aceno Bangla la serie è un prodotto estremamente esportabile ce l'auguriamo hanno a che fare solitamente con i nostri grandi temi quindi o la religione, the new pope oppure gente con la pistola Bangla anche in questo mi sembra essere una novità è un altro tipo di storia che viene dall'Italia prego Anuele se vuoi sì non ci sono preti, poliziotti e medici incredibile e neanche Rino Frasca no, noi siamo stati molto contenti quando Francesco Nardella, Leonardo Ferrara e con Domenico Procacci abbiamo ripreso, sono stati ripresi i diritti perché il film è stato fatto prima con team per cui ci abbiamo messo un po' la serie in realtà c'era l'idea di fare una serie subito dopo il film e in qualche modo l'idea un po' è stata saccheggiata da altri prodotti per cui ora siamo contenti in qualche modo di riappropriarcene e di sviluppare di più in questo formato che è abbastanza innovativo anche all'estero un minutaggio così breve ci sono diverse serie di riferimento che sono almeno per me dei capolavori per cui parlarne un po' mi mette in imbarazzo però sicuramente è stato importante vedere Rami per l'uso della musica, vedere Alta Fidelità per il formato Love e poi soprattutto per il capolavoro che è This is England Sono d'accordo con lui Siete d'accordo, previso Carlotta tu invece hai qualcosa che ti colpisce? Sicuramente la serie è un bel modo di raccontare una storia anche avendo la possibilità poi di riuscire ad arrivare all'estero io all'inizio avevo un po' un pensiero non su questa serie in generale che fare una serie su un film fosse un po' rischioso nel senso che mi dicevo basta il film pensavo di tante cose che vedevo poi ho cambiato idea su questo devo dire perché in realtà è molto interessante come viene dilatato il racconto nella serie televisiva e secondo me è anche molto interessante raccontarlo con magari delle stagioni non troppo lunghe e anche con un formato di puntata che non diventi come un film però è un bel modo di raccontare quella storia che effettivamente ha funzionato che è piaciuta e secondo me è molto interessante e molto intelligente come trasformazione Grazie Ci sono altre domande dal pubblico già lì sei presente in sala Caterina dalla sala stampa Perfetto Allora io ringrazio ovviamente Faim Bujian Emanuele Scaringi e Carlotta Antonelli per essere stati con noi registi e protagonista di Bangla la serie ringrazio ancora la delegazione Domenico Procacci per Fandango la sceneggiatrice Vanessa Picciarelli Leonardo Ferrara e Francesco Nardella invece per Fiction Complimenti e grazie ancora per essere stati con noi Grazie mille